Jingle Spot Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141B Fantastico bonus di benvenuto Sull'apertura del vostro conto online Salgono sempre più le quotazioni di Cesare Prandelli Scendono invece quelle di Corche e San Paoli L'ex ECT del Cile è stato a lungo corteggiato dalla Lazio Desiderosa di averlo come un nuovo tecnico Ma le cifre economiche richieste da allenatore Non collimavano con la proposta fatta dalla dirigenza capitolina Ed ecco che spunta il Granada Che sarebbe pronto a convincere l'argentino A diventare il prossimo allenatore del club espagnolo Per la prossima stagione Come riporta As L'accordo sarebbe vicino per tanti fattori Il principale è il cambio di diligenza della società Infatti una cordata cinese Ha acquistato dalla società andalusa E dà intenzione di iniziare la sua gestione Con un tecnico di prestigio E con una pille internazionale Dopo aver rifiutato anche l'Espagnol Il Granada sembra essere l'unica opzione Al momento in Europa per San Paoli Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141B Consigli del Mago in sede E schedine già pronte E giocate per voi Fantastico bonus di benvenuto Sull'apertura del vostro conto online Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141B Il posto migliore Dove passare alla cassa Non ciudadano Di Damn Di Damn Di Damn Grazie a tutti